Il grande circo di Michael Jackson ha funzionato ancora, 40.000 persone hanno riempito stasera lo stadio Flaminio di Roma, il concerto è ancora in corso, ma nel pubblico i più sono ragazzine e ragazzine della nuova generazione, spinte sicuramente dal desiderio di colmare la loro sete di curiosità, Jackson ha fatto precedere il suo ingresso a trastornanti tuoni, scene megacalattiche e lui, ancora lui, con ricciolo spiovente sul viso sempre più pallido, ha dato il via al suo concerto dal titolo Dangerous con Jam. Clown lui stesso, sempre per non tradire la sua formula di ballerino cantante.